Appare l'Associazione Nazionale dei produttori degli aggregati riciclati e artificiali. Anche quest'anno siamo presenti a fare i conti con l'ambiente a Ravenna. Questa manifestazione è molto interessante che tratta i vari temi legati all'ambiente. Quest'anno, per quanto riguarda il nostro tema specifico, ha sei convegni, sei focus su alcuni argomenti di strettissima attualità. Questi sono i due convegni che abbiamo fatto questa mattina sui criteri ambientali minimi nell'edilizia e nella costruzione delle strade. Oggi pomeriggio ci siamo soffermati con un dibattito abbastanza acceso e partecipato sulla questione del decreto di end waste dei rifiuti inerti. Domani tratteremo altri argomenti altrettanto interessanti. Uno riguarda gli importi delle garanzie finanziarie da rilasciare da parte degli impianti per lo svolgimento delle proprie attività, quindi per gli impianti di recupero di rifiuti. Un altro convegno tratterà della pericolosità delle scorie, quindi dei rifiuti derivanti dai processi termici. E infine parleremo del costruire sostenibile trattando delle certificazioni EPD e del protocollo ND.